Oh Gesù Giuseppe e Maria, doveva capitare proprio in questo momento? Oh Gesù, sbrigatevi! Oh Gesù, sbrigatevi! Non ce la faccio là, non me la tengo più, datemi un bagno! No, no, tutto ok! Un bagno, un bagno, un bagno, un bagno, datemi un bagno! Dai ce l'avranno un bagno in questo forte! Levati! Non ora! Dammi un momento! E fatemi andare a cagare! Sì, ok? Sì, ok? Sono venuto! Non ti sono venuto! Ok? arriva la merda da riete sbrigatevi e fate fuoco datemi un bagno no abbiamo vinto non serve più basta no